M'ha detto il brigadier che ha dimanato, che non si è corretto ma già presentato, e che per me non c'è posto di perdono, o fatte certe vanno a condannare. E l'ha già accesa per sé, signore, ma è stato un omicidio per l'amore, e da sapere che non so malamente, che la so malattava veramente. Dice la mamma che la mia signore, che ha persa figlia e non può perdonare, che colpa sua io si mostro in quella galeria, perché io non l'ho imparata l'onestà. Signori della corte casantite, pensate a buone prime giudicà, io d'indaggo a salmi, l'ha già trovato, ste vinde bracciate, che va a far? E l'ha già accesa per sé, signore. Dice la mamma che la mia signore, che ha persa figlia e non va perdonare, che ha persa figlia e non va perdonare, però l'onore non si ha dato canto.